E' petta, sta morendo io, eh! Stiamo smontando! Qualche commento in diretta? Ma non c'ho il tazzo, no! No, non vorrei che... Mi trascio anche la testa! Va bene, chi ha vinto? Lui, lui! Lui, bravo, bravo, ok, bravi! Due, una dichiarazione su questi giardini, Rossetti! Eh? Una dichiarazione su questi giardini! Un'area che era deserta, abbandonata a chi passava, magari a fare delle porcherie contro se stesso e contro gli altri. Un grande municipio, attento ai cittadini, con 10.000 euro. Aria attrezzata per i cani, per chi vuole fare un po' di sport. Panchine riciclate da Piazza Martinez, la fontanella, ci ha detto il Presidente Ferrante, che era in un magazzino. E così che si fa, si sta con la gente vicino alla gente.